ben ritrovati sul mio canale dopo un po di tempo che non pubblico dei video oggi ne faremo uno semplice semplice ecco questi fiocchi per capelli sono facilissimi da fare ma soprattutto molto veloci in 20 minuti abbiamo fatto un fiocco e sono ideali per le nostre bambine le nostre nipotine ma anche per noi voglio dire se lo facciamo nero allora di cosa abbiamo bisogno per realizzare questo progetto innanzitutto abbiamo bisogno di un elastico mezzo centimetro vedete piatto abbiamo bisogno di un ago un uncinetto numero 5 ma soprattutto della nostra ciniglia vedete la ciniglia questa è una ciniglia abbastanza sottile ce ne sono anche di più grosse però noi comunque usiamo questa qui che è che è giusta vedete uncinetto numero 5 allora innanzitutto dobbiamo preparare la parte centrale il nostro elastico o ne avete uno in casa già pronto all'uso come questi le vendono in sacchettini 50 centesimi oppure se non li avete e dite no ma io lo voglio bianco va bene allora prendiamo questo elastico misuriamo 18 centimetri perché il nostro fiocco avrà un diametro di eccoci qua 18 centimetri a cui noi lasceremo comunque un centimetro per per la chiusura ecco fatto prendiamo il nostro ago e andiamo a saldare l'elastico ecco fatto vedete l'abbiamo cucito mi raccomando qui non ci devono essere questi questi lembi volanti perché sennò impedirà questo lembo volante impedisce al lavoro di scorrere perfettamente bene una volta che abbiamo preparato il nostro elastico prendiamo l'uncinetto numero 5 la nostra ciniglia e iniziamo la lavorazione lasciamo un lasciamo un lembo di di ciniglia un po lunghetto perché dobbiamo provvedere anche a saldare perfettamente il filo all'interno del nostro fiocco andiamo a preparare la nostra asoletta e infiliamo l'elastico vedete infiliamo l'elastico e siamo pronti per fare il nostro primo punto basso eccoci qua il lavoro è assolutamente facilissimo perché noi dobbiamo semplicemente fare un giro di punti bassi vedete che io ho la cima della della mia lana ecco la metterò parallela all'elastico e lavorerò in maniera tale da lasciarla all'interno del nostro lavoro eccoci qua vedete dobbiamo lavorare un giro di punti bassi qual è il segreto il segreto però mi raccomando è lavorare molto leggero soprattutto tenere l'elastico in maniera tale che non si pieghi perché l'elastico non deve fare non si deve piegare a metà in questa maniera o soprattutto torcersi su se stesso quindi vedete cerchiamo di essere morbidi e lavoriamo questo giro di punti bassi come potete vedere io ho lavorato tutto l'elastico a punti bassi però voi direte mamma mia che facilissimo non proprio perché adesso dobbiamo tirare il nostro lavoro vedete che se non siamo stati bravi qui non scorre proprio bene perché qui c'è la giuntura allora ci aiutiamo con con le unghie ecco fatto vedete ecco qua noi abbiamo fatto così per compattare il lavoro perché quando tireremo l'elastico non si devono vedere i buchi ma si deve vedere un lavoro unitario ecco quindi noi adesso continuiamo a lavorare i punti bassi perché come vedete si è aperto ancora un bel po di lavoro da fare per la seconda volta ho finito il giro proviamo a vedere se così è sufficiente vedete che c'è ancora spazio c'è ancora spazio per un po di lavoro e quindi non mi rimane altro che continuare con i miei punti bassi vedete lo spazio si sta riducendo sempre di più ancora qualche punto e potremmo dire che il primo giro è concluso mi raccomando sempre morbidi i punti perché altrimenti l'elastico si tira e si gira bene facciamo la prova vedete ancora ancora due punti ma uno è più che sufficiente chiudiamo con il nostro punto basso sulla prima maglia bassa e adesso siamo pronti per il secondo giro due catenelle e un punto alto alla base delle nostre due catenelle il secondo giro è facilissimo come il primo perché si tratta di lavorare due punti alti ogni punto basso sottostante allora per non correre il rischio di sbagliare dobbiamo tendere sempre il lavoro con le dita per individuare il punto basso dove lavorare il secondo giro vedete adesso apriamo eccoci qua e lavoriamo due punti alti ogni punto basso vedete apriamo con le mani individuiamo il punto basso e ci lavoriamo due punti alti andiamo avanti così fino alla fine del giro e pian pianino vedrete che il vostro fiocco si trasformerà in questo con tutte le onde vedete come vi avevo anticipato il fiocco sta prendendo forma sta diventando veramente grazioso mi raccomando ogni volta tendete il lavoro altrimenti alla fine risulterà che saltiamo qualche punto base e questo alla fine si noterà andiamo avanti così fino alla fine del giro bene come vedete siamo arrivati alla fine adesso non ci resta altro da fare che cercare il primo punto alto che abbiamo fatto e chiudere con un punto bassissimo adesso molto importante è il saldare il filo perché nel momento in cui noi apriamo il nostro fiocco qui se non è saldato bene si apre allora muniamoci di un ago da lana andiamo a infilare eccoci qua il capo della nostra lana e dov'è che fissiamo il filo intanto lo attorcigliamo attorno al punto alto dopo di che passiamo al giro precedente e andiamo a fissarlo attorno al punto basso dopo di che infiliamo infiliamo lago all'interno di tutti i nostri punti bassi eccoci qua per un pezzettino perfetto ed ecco che la saldatura è stata fatta tagliamo il filo e voilà il nostro fiocco è pronto facendo contente sicuramente le nostre nipotine le nostre bambine allora se volete vedete io su questo nero in cima ogni centimetro centimetro e mezzo ho fissato una perlina su queste che sono per delle bambine ci possiamo inserire anche delle perline però che ne so delle stelline dorate o dei cuoricini rosa eccetera eccetera a voi la scelta date sfogo alla vostra creatività grazie per essere state sul mio canale per questo per quest'altro tutorial se vi è piaciuto vi ricordo mettete un like e la campanella per stare aggiornati sulle news sui miei nuovi video grazie ancora e a presto ciao